Buongiorno, buongiorno qui da Info Magazine e dagli studi di RoboTV Calabria 1 da Sdv. Oggi ho il grande onore di avere innanzitutto un'amica, una professionista, dell'avvocata Lucio Gittadino, nonché consigliere comunale del Consiglio Mascaro, della sinistra diciamo. Nuova Era. Nuova Era, fu eletta con Nuova Era. E lì sono rimasta, dove mi hanno eletto sono rimasta. E' una che partecipa continuamente, l'unica dei pochi che è rimasta a frequentare i consigli comunali, è mancato due o tre volte. No, il Consiglio Comunale non ne ho mai saltato uno, sono presente ogni giorno in consiglio, per le varie commissioni. Non l'ha mai saltato perché ci crede o perché non ha niente da fare? No, perché ci credo e io quando decido di fare una cosa cerco di farla al meglio. Ho preso questo impegno con gli elettori e quindi compatibilmente con i miei impegni che ho incastrato e con questo impegno politico ho dato sempre la priorità ad un ruolo che mi è stato affidato dagli elettori e che mi ha davvero sempre riempito d'orgoglio perché certe volte rifletto e dico però siamo 24 persone su 70 mila abitanti a rappresentare una città, insomma 24 su 70 mila persone. Lei ha preso bei voti all'epoca, non ricordo. All'epoca, ora non ricordo, sui 340, 350 voti. Che nessuno ci credeva perché era stata candidata all'ultimo minuto. No, io sono stata candidata all'ultimo secondo, veramente. Altimo secondo, bravo. Sembra per scherzo, ma lo ricordo bene. No, allora, molti pensano che siccome mi vedono, diciamo, sveglia, molto spesso mi riescono delle cose che faccio, in famiglia mi chiamano ultralusi, perché riesco a fare delle cose in brevissimo tempo e che poi mi riescono. Questo è stato un misto di fortuna e anche riconoscimento da parte di chi poi mi ha votato, perché è stato un riconoscimento. Praticamente io non ho fatto campagna elettorale, mi ha chiamato… Siccome lei ha un bel profilo, un bel frontale, se si gira verso la camera, facciamo vedere le bellezze che abbiamo anche. Sì, calabresi. Non calabresi, ma il nostro consiglio comunale, che è l'avvocato del suo cittadino. Grazie. Che mi metto io di profilo, ci sta tutto, perché sono bucino. Quindi guardo loro e non guardo te. Ma lei, insomma, fa una bella figura, faccio figura pure io. E certo, di riflesso. Innanzitutto vuole che aiuta di lei o del tuo? No, come si addice di più alla trasmissione? Ma dici da lei. Noi ci diamo del tuo, quindi va bene anche. Allora, Lucia, Lucia, l'avvocato, il consigliere comunale, il marito è un grande amico mio. Sì. Infatti ci siamo sempre, ci siamo sentiti. Ci siamo sentiti da Praga. Da Praga. Volevo sapere cosa si è andata a fare a Praga. Lui dice che è andato a vedere i monumenti. Con 14 amici. Con 14 amici, uno peggio dell'altro. Siamo 14 amici, uomini, vanno a Praga per vedere i monumenti. Vi sta mandando foto solo di monumenti. Sì, va bene. Si fa sempre così. Vabbè, scherziamo. Sì, scherzo. Però, voglio dire. Vabbè, mi perdono. E te senti che torna a casa sua? Eh? E te senti che torna a casa sua? Vediamo, si trova aperto. Ah, pure, pure. Va bene. Questo è un assaggio di chi è? Lucia Cittadino. Io l'ho avvocato. Infatti, quando gli fece la prima intervista, ci fu, diciamo, tutti a parlare. Scalpore. Scalpore, perché lei uscì con una frase, uno che non viaggia da me, basta prendere un aereo e va a Londra. I miei figli l'ho mandato a Londra. Diciamo tu che sai, diciamo, accendere un po'. C'è chi se lo può permettere, chi no, se lo può permettere, i suoi figli, è giusto che vada a Londra. E' successo un piccolo... Eh, sì, ci fu una piccola polemica con chi ci seguiva, perché non avevano ben compresso il senso delle mie parole. Io dicevo che nell'ambito di contesti in cui è possibile esercitare la curiosità, la voglia di comunque confrontarsi con altre realtà, in tanti ragazzi, tra cui includo anche le mie figlie, che vanno stimolate sempre a fare magari cose nuove, che possano arricchire il loro percorso, in tanti non lo fanno. Feggi l'esempio, per esempio, dei voli low cost della Ryanair per Londra, che ho visto l'altra volta, costano 17 euro, 18 euro. Adesso non tanto. No, 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 io sono stata in Germania, l'altra qualche mese fa, volo diretto, anzi consiglio ai telespettatori di andare a visitare Memmingen, non so se la pronuncio è giusta, è ad un'ora da Monaco, ad un'ora dai castelli di Fussen, che è la Romantic Strass, che è uno degli itinerari più visitati al mondo, e il paesino è molto bello, si chiama Memmingen, abbiamo questo volo diretto, io ho detto, ah beh... Ma è andato con 17 amiche o è andato per... No, io sono andata col marito... Ah, col marito, Bruno... Altre due coppie di amici, sposati, e ci siamo divertiti tanto. Poi la notte uscivano, non lo so dove sono, ma io dormivo. Guarda Bruno, è tremendo. No, comunque, per tutti gli scherzi... Ecco, abbiamo speso 30 euro, mandate e ritorno... Si può fare. Si può fare. Abbiamo visitato un posto meraviglioso che è quel paesino, un borghetto tipo gotico, bellissimo, economico pure, anche per dormire e per mangiare. E poi da lì ti puoi spostare a Monaco con un treno pure altrettanto economico, a visitare questi castelli che sono, ti ripeto, vengono dall'America per vedere la Romantic Strass. Con pochi soldi organizzandosi, però... Organizzandosi con un po' di intraprendenza, oppure appoggiandosi a qualcuno. Ecco, io questo dicevo, le mie figlie non sono volute venire, venite con noi, io non voglio venire, io non voglio venire, gli manca un po' il sale a questi giovani. Vuol dire che gli piace la mese pure, no? Dei, gli piace, sì, sono comodi, vogliono rimanere nella loro comfort zone, io la chiamo. Allora, però non siamo voluti qua a parlare leggermente, no? No, 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 era per l'apertura. No, io volevo dire, innanzitutto come va il Consiglio Comunale questa giunta a Mascaro, come la vede? Allora, guarda, sinceramente io vedo, credo che al netto dell'onestà, della buona fede, diciamo, e delle buone intenzioni, sia di Paolo Mascaro che di tutta la giunta, perché parliamo di persone per bene. Certo, noi parliamo politicamente. Esatto. Io credo che ci sia l'errore, diciamo, principale, che non ha consentito di cambiare il volto di questa città, e sempre che ha caratterizzato questa amministrazione, lo scollamento tra Consiglio e giunta e sindaco, perché chi lo vive dall'interno può testimoniare che ci sia una costante frammentazione dei gruppi consigliari, gruppi consigliari che si modificano, poi abbiamo avuto i dissidenti, poi abbiamo avuto cambio di consiglieri comunali che sono passati dalla maggioranza all'opposizione, quindi tutto questo non ha assolutamente aiutato il sindaco e l'amministrazione a lasciare un segno. Cioè la città io la vedo sostanzialmente ferma. Ora sto vedendo un'accelerazione su tanti progetti, su tante idee, che non so se e quando vedranno la luce. Io sono la prima a gioire se la città si arricchisce di nuove opere, se si arricchisce a livello economico e produttivo. Però sinceramente io avrei dato un'impostazione completamente sbagliata, è stata una lente e lunga agonia di un'amministrazione che non ha mai potuto contare su una progettualità anche dei consiglieri. Lì ci sono beghe, liti continue anche per stupidaggini. Davanti all'importanza dell'amministrazione di una città io dico che certe cose, certi anche personalismi e ambizioni personali dovrebbero lasciare il campo ad idee più nobili e più lungimiranti. Avvocato, è vero che io ho delle curiosità, che ieri c'è stata una riunione, infatti è stata invitata all'ultimo minuto, è un solo ingresso che è venuta. Non è stata invitata a una riunione politica del PD? No, io ho appresso dal Lametino che c'è stato il tavolo del centrosinistra ieri. No, l'ho appresso dal Lametino e poi ho saputo tramite il presidente Eugenio Guarascio che era stato invitato lui e che sarebbe andato in rappresentanza di Nuova Era, però io so che per vari movimenti sono state invitate più persone. Cioè lei come consigliere riteneva di essere invitata? Eh sì, voglio dire, io avevo anche altro da fare, ci mancherebbe, c'era la presentazione del libro della Manzini, però io non sono stata invitata, evidentemente non lo so, saranno dimenticati oppure non hanno ritenuto utile il mio contributo, l'onora. Io ne so che vi hai detto in faccia con la decisione che abbiamo, lei non è che è tanto ben vista all'interno del PD, perché so che ha avuto degli scontri verbali faccia a faccia con degli esponenti importanti del PD e me ne vuole raccontare qualcuno, giusto per rinfrescare l'idea dei nostri esperimenti e perché. Sì, no, io il perché non lo so, sicuramente non mi sono mai sentita dal PD amata, tra virgolette, non che debba essere amata, però io ho sempre percepito una sorta di, ecco, un atteggiamento di stacco nei miei confronti. Ora, non so se è il mio dato caratteriale, se perché io non le mando a dire, se perché io poi alla fine non seguo mai un percorso che possa essermi utile a livello politico, perché essere, diciamo, allineati è la scelta più semplice, no? Perché tu poi ti crei il tuo circolo magico, il tuo cerchio magico e puoi solo guadagnarne, perché io a battibeccare con Gennarino Masi piuttosto che con Italo Reale o con altri con cui… Tu dove stai facendo un po' che… No, vabbè, notizia, voglio dire, sono notizie di cronaca. Io avevo fatto nei giorni scorsi un comunicato dove, diciamo, esprimevo la mia idea, anche con la mia idea sull'impostazione da dare per me al centro-sinistra, al PD, delle mie riflessioni, critiche. Ma la politica, il giorno io vivo di politica, a me piace analizzare i processi. E come gli hanno risposto? Per esempio Gennarino Masi mi ha risposto che io non sono iscritto al PD, ma sulla stampa, non sto dicendo niente di personale. Sì, e che quindi io non avevo titolo per andare a mettere il becco sostanzialmente a casa loro. Io, il mio punto di vista… Però l'ho stata eletta nel centro-sinistra. Io sono stata eletta nel centro-sinistra. Io ambisco a che la Mezzia abbia un'amministrazione di centro-sinistra, perché se io volessi mantenere lo status quo non mi porrei tanti problemi. Io so e vedo dal mio osservatorio. Poi magari là dentro sono tutti felici e contenti e pensano che le cose vadano benissimo. Avendo assistito a mesi di conflitti, lotta intestina, mezzo stampa tra le varie fazioni, richieste di intervento… Che sono all'interno. Ma non è che me ne sto dicendo niente di nuovo. No, lo so tutte le città. Con i nomi sui comunicati e sulle lettere che hanno mandato a dirto, 7-8 persone chiedono che il partito debba essere commissariato, se il presegretario cittadino Masi risponde e dice… voglio dire, io dico, se all'Europea abbiamo preso, il PD ha preso il 12%, ora non ricordo, a livello nazionale alla Mezzia e in Calabria il 13-14 e in Italia il PD ha preso il 24, ci vogliamo interrogare del perché? Oppure pensiamo che la colpa sia dello Spirito Santo? Quindi ecco, io ho fatto solo un'analisi, una riflessione e soffendono. Io sto antipatica molti, lo so, lo percepisco, me lo dicono. Che è successo con l'interno reale? Vabbè, l'apparente si è chiusa e… E se però l'avete aperta, l'avete aperta, l'avete chiusa però… E vabbè, lo sanno tutti, non voglio annoiare perché… No, non annoio, non annoio, non sto dicendo io. Di maschilismo… No, no, non annoio, non annoio, sono tutti amici. No, vabbè, in Consiglio Comunale loro pretendevano che io prendessi una posizione sul PSC netta e allineata su quelli che loro erano i loro convincimenti, io non mi sono sentita dopo 40 anni che si lavorava a questo PSC del centro-sinistra, cioè io ho un problema che sono, diciamo, onesta intellettualmente, io non riesco a cambiare idea in base… Se una cosa la condivido, la faccio a prescindere da chi la propone, cioè rimandare indietro dopo milioni di euro spesi per la progettazione, un PSC che comunque sbloccava l'edilizia alla mezzia. Io in quel momento storico, dopo 40 anni, ho scelto di astenermi, loro pretendevano che io facessi, quasi, diciamo, i votassi contro e quindi questa cosa ha dato fastidio, ma ognuno deve essere lì, per carità, magari mi pentirò, magari ho sbagliato, ma queste tante altre cose, ma io tra l'altro a me se me le chiedono con l'imposizione ottengono il risultato contrario, quindi ecco, forse do fastidio perché io poi o non lo so dire o sono un po' ruvida nei modi, magari sono troppo diretta. Se non mi sbaglio, lei è nata a Vittoria in Sicilia? Sì, da mamma napoletana e padre calabrese. Insomma, un po' di confusione c'è stata, non? Eh, c'è un po' di... E queste tutte queste... Queste confusioni, diciamo... Eh, no, confusioni, io credo di aver preso il meglio da ogni... Certo che è una meridionale. Sono una meridionale di quelle veraggi. Mi sento molto napoletana perché mia madre è napoletana, ho studiato a Napoli e quindi poi sono nata in Sicilia, mio padre è di Nicastro, quindi ho le tre nel sangue tre, quattro siamo, tre sorelle e un fratello e sette nipoti, cioè dalle tre sorelle sono nate sette cugine, tutte femmine. Tutte femmine. Quindi sento il peso anche di migliorare anche la condizione un po' femminile in generale. Io sono vicepresidente della commissione Pari Opportunità, faccio una serie di pure di iniziative proprio per... Credo che bisogna dare forza e coraggio a tante donne che non hanno la fortuna, ecco, che magari ho avuto io e tante donne come me di aver potuto studiare, di potersi emancipare da un marito piuttosto che da una famiglia e quindi dobbiamo far capire che la visione deve cambiare e che tanto c'è da fare. Insomma, Avvocato Cittadino, c'è un po' di confusione all'interno del centro di sinistra? Io da qua non ci vedo niente. Sì, sì, faccio, se posso spostare i capelli dal microfono. A vero, perché lei... Ma dove ce l'ho qua? Ah, ok. La regia... Vedi com'è brava? Lei ha messo i capelli all'altro. La vediamo lo stesso, ha fatto i capelli. Sì, vedi. Lei fa il colore? Purtroppo no, ce li ho tutti neri. Tutti neri. Sì, ho fatto il colore. Ma no stamattina. Stamattina ho fatto la messa in piega per essere bella per te. Per essere bella per te. Vabbè, è il suo marito. È a Praga. È a Praga, però... Quando torna... Lei è sempre perfetta. Grazie. No, al di là dello scherzo perché io faccio la mattina ogni tanto. Eh sì, certo, pure io mi inviti a nozze. Nel centro-sinistro c'è un po' di confusione. Insomma, stiamo pronti ad arrivare, diciamo, alle elezioni comunali. Il governo sta confusando. Tutti vorrebbero presentarsi come sindaco. Insomma, come ne uscirete? Anche se ci sono dei messi davanti. Però vedendo le prospettive la vedo tosta. Eh... Io non la vedo tosta pure, sinceramente. Nel senso che vedo tante persone che stanno promuovendo la loro candidatura. Chi velatamente, chi in maniera diretta, chiara e trasparente. Però tu dici c'è tanto tempo davanti. Il tempo è poco perché si voterà a maggio. Siamo a fine ottobre. E ancora, ieri appunto, ho appreso dalla stampa che c'è stato questo primo tavolo del centro-sinistra. Però ieri, cioè, mi sarei aspettata che magari, ecco, a sto tavolo le varie forze avessero già un loro candidato per fare poi una sintesi. Però, da quello che mi è stato riferito, da chi c'è stato, o l'ho incontrato, ho incontrato una persona... No, io avevo altro da fare, certo, voglio dire, l'esclusione c'è stata. Cioè, io non sono stata invitata, quindi prendo atto che evidentemente non ero, diciamo... Ma non la voglio mettere sul personale, voglio dire, che non mi hanno invitata. Evidentemente il mio contributo non è stato ritenuto necessario o comunque utile, ecco, alla discussione. Ma non me ne faccio un cruccio, insomma, non... Però, ecco, questo ti dà un po' la cifra di quelli che sono poi i meccanismi sottesi anche a... Un modo, no, di impostare un percorso. Perché io posso essere stata... Credo di essere stata anche fraintesa quando io dico le cose che penso. Ma se io dico cose che magari scomode, che danno fastidio al PD, ma in un'ottica, non da prima della classe, ma in un'ottica, diciamo, costruttiva. Perché, ecco, non... E do anche la disponibilità ad esserci. Disponibile, diciamo, maturità che io ho acquisito poi col tempo. Perché io prima ero molto più netta. Allora, io perdo tempo, trascorro tempo solo se ero totalmente magari in sintonia con i vari attori, no, dei vari processi. Adesso ho capito che la politica, praticamente, è sintesi. Devi parlare e confrontarti anche con persone che magari tu ritieni distanti da te, anche politicamente, piuttosto che ideologicamente, perché nell'ottica, ecco, il sano compromesso, no, per raggiungere dei risultati utili per la collettività. Allora... Forse anche per questo... No, 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 ma io voglio dire, magari si saranno scordati. Io non è che dico... Può essere pure che si siano dimenticati. L'ha visto un po' come una mancanza dei suoi confronti. No, 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 io non dico che sia una mancanza. Dico che magari si sono scordati, che sono consigliera... Perché a me, nel confronto del Presidente, aveva avuto sempre un po' di batti e becchi. Sì, no, no, non sono mai stata... È stato un personaggio scomodo, diciamo. Ma non scomodo, ma sto antipatica. Per me, a molti di loro sto antipatica. Ma perché, secondo me? Eh, ma che ne so, chiedeteglielo loro. Ma lo percepisco perché poi se ti incontri... Perché tu, perché... Cioè, si percepisce che a molti, tra virgolette, mica a tutti... Però io spesso, quando sto antipatica a determinate persone, dico, vabbò, però... In fondo forse è una cosa buona. È una cosa buona? Dipende a chi sei antipatico, no? Beh, vuol dire che se ne parli, no? No, perché se ne parli, perché se stai antipatica a certe persone... Forse è un... C'è un motivo. C'è un motivo e... Una questione di pelle, non lo so. Ed è forse una cosa buona. Non scatta la chimica. Dipende a chi stai antipatico. Non scatta la chimica. Non scatta la chimica, forse. No, no, dipende a chi stai antipatica, no? E perché stai antipatica, quindi... Lei a chi vede il prossimo candidato al sindaco? Nella sua... Io siccome... Allora, per individuare nel centrosinistra... Centrosinistra. Allora, qui il problema, un altro errore che per me si sta facendo è che si fanno... Ci sono queste autocandidature, ci sono queste proposte di candidature, però io non sento parlare di programmi. Allora, un candidato a sindaco, diciamo, a livello di persona, andrebbero tutti bene. Non tutti, voglio dire, i nomi che circolano, no? Sono persone per bene, persone capaci, che hanno esperienze, eccetera, eccetera. Però il problema è avere e confrontarsi su una visione, su una progettualità. Allora, calare... Cioè, ogni candidato a sindaco potrebbe andare benissimo come potrebbe non andare benissimo. Bisogna capire che tipo di impostazione vuole dare alla giunta, che tipo di futuro si vuole dare alla città. Perché astrattamente potrebbero essere tutti idonei e persone capaci. Però non si deve parlare dei nomi. Nessuno ha parlato dei programmi. Ma io non sento parlare di programmi, io non sento parlare di squadra, io non sento parlare di priorità, io sento parlare di disponibilità. Io mi voglio candidare, io mi voglio candidare, noi candidiamo tizio, quell'altro si vuole candidare, ma per fare che? Cioè, si deve partire da quello. Anche ieri mi dicono che si percepiva che la fretta ora è di individuare un nome. Ma giustamente, perché è tardi? Perché è tardi? Ma voglio dire, si sta facendo il percorso inverso. Prima si trova il candidato e poi dopo si costruisce. Quindi io mi auguro che ci sia un'accelerata in modo tale da poter trovare la convergenza che poi non sia solo, diciamo, effimera, ma che poi possa essere innanzitutto credibile per la città. Perché noi abbiamo, sicuramente Mascaro si candiderà. Certo. E quindi se lui riesce a dare un'accelerata, lui riesce ad essere bravo nella comunicazione, io a Mascaro non lo sottovaluterei, come molti pensano. ah, non lo vota nessuno. Io non lo sottovaluterei affatto. Entrate in forze dalle, insomma. Esatto. Lui, esatto. E poi anche tutte le forze del centro-destra, che sembrano spaccate, non pensare, io lì le vedo le dinamiche, che stanno litigati tre giorni, poi dopo, poi fanno pace con tre, e poi dopo litiga con altri due. Una volta era il centro-sinistra così. Mi ricordo che il centro-sinistra erano litigati. fra di loro, però, nel momento che si andavano le urne, erano tutti uniti per quel personaggio. Sì, sì. Adesso si sono capovolte le cose. È passato tutto, diciamo, il centro-destra sta facendo come faceva il centro-sinistra. Perché il centro-sinistra, sappiamo che se si continua così, si va di nuovo a fare l'errore che sono fatti gli anni precedenti. Sì, sì, sì. Non lo so. Il centro-destra, da sempre però, è sempre stato poi capace, a livello anche nazionale, cioè le forze del centro-destra, di trovare sempre più la sintesi. Il centro-sinistra io l'ho sempre visto molto più litigioso, diciamo, animato da, ma vi parlo come connotazione, ovviamente le generalizzazioni non vanno mai bene, però io lo vedo anche nelle varie elezioni provinciali, piuttosto che quando si deve trovare nelle nomine, nell'individuazione, loro riescono a trovarla alla quadra, riescono a trovare degli equilibri che gli consente poi di, come dire, trovare quell'unione che poi è forza in politica. Invece il centro-sinistra, da sempre, è molto animato da un po' faide interne, ma non parlo del centro-sinistra Lametino, io ti parlo a livello nazionale, abbiamo un po' anche il piglio da primi della classe che pensiamo, capito? E quindi questo un po' favorisce gli avversari. Come vedete le primarie, se dovessero fare le primarie del PD? Vabbè, è uno strumento democratico, anche le primarie molto spesso poi, se non sono, diciamo, completamente libere, tra virgolette, intendendo, fai conto che se poi potrebbero anche non essere veritiere di quella che è la volontà popolare, perché abbiamo visto, abbiamo esempi in tutta Italia di primarie dove si sono mosse le truppe cammellate e hanno poi individuato, diciamo, candidati che non necessariamente era il candidato voluto, diciamo, dalla maggioranza. Però là, quello è un limite anche di chi, una responsabilità di chi poi non, come dire, non esercita il diritto di voto anche a questo livello. La Shlein è riuscita nella sua impresa a scalare un partito da non tesserata. Questo io ho cercato di spiegare a quelli del PD che si sono offesi per il mio comunicato. Cioè, io non posso dire la mia opinione sul PD perché non sono iscritta al PD, quindi io devo tacere e accettare subinamente le dinamiche. Secondo me sembrano un po' i modi carbonali, tra le volte. Cioè, il PD è il primo partito, i partiti nazionali di centrosinistra, i partiti sono disciplinati e dalla Costituzione, io, donna di centrosinistra, credo di politica attiva, eletta, siamo due del centrosinistra, là siamo rimasti, io e Rosario Piccioni, perché Aquila poi si è dovuta dimettere, Arceri che è subentrato, era stato eletto nel PD e poi, credo, ed è fuoriuscito dal PD, sicuramente per ragioni che credo non si sentisse a suo agio in quel partito, se no rimaneva, quindi abbiamo perso, hanno perso un consigliere comunale, che è Dario Arceri, che è confluito in azione, quindi due siamo del centrosinistra, lì, ed è Eugenio Guarascio. quindi tre persone che devono contrastare e fare opposizione all'amministrazione Mascaro. Quindi, voglio dire, non è un'azione semplice, però ce la si mette tutta, insomma, per cercare di far sentire almeno la nostra voce, insomma. Insomma, sono momenti difficili, eh? Eh, sono momenti difficili, non è, la politica è scontro, spesso uno scontro duro, che ti spianca, ti logora, infatti, spesso le mie sorelle quando sentono, dicono, ma tu come fai, ma tu, però poi, insomma, è una passione, quando c'è la passione superi le difficoltà. Ma lei è tratta di candidarsi? Io, se ci sono le condizioni, sì, se no, non, non mi, non sono una che si candida a tutti i costi, anche perché, poi non ho finito di raccontare come mi sono ritrovata consigliera, io, l'ultimo giorno della presentazione delle candidature, l'ultimo secondo, tanto che tutti pensavano, dicono, ha fatto l'operazione, ha fatto la furbata, io ero pronto, leggo la delegata, sì, esatto, mi chiamò una mia amica, che lavora per il presidente Guarascio, e mi fa, Lucia, puoi salire, ti deve parlare, il presidente, ha detto, no, se per candidature, ma ti prego, se che fa, fallo per me, sali e gli dici di no, se no, mi pare pare, sta brutta figura, gli ho detto che siamo amiche, e ho detto, io va bene, salgo però, ho detto, guarda, sappilo, lui invece è stato, devo dire la verità, molto garbato, gentile, un signore come è sempre, e mi ha detto, mi ha motivata, io comunque sono andata via, dicendo di no, che non mi interessava, anche perché c'era gente che faceva campagna elettorale da anni, ho detto, dove vado, vado per suicidarmi, politicamente, no, non per vincere, però volevo partecipare. Ma il suo marito cosa ne pensava? Lui l'ha saputo quando, in pratica, mi ha dovuto accompagnare, a firmare, perché era quasi scaduta il minuto, ho detto, sbighetti che se no, se non trovo parcheggio, scadono, scadono alle sette, ma per fare che avevi detto di no, infatti un suo amico, che è a Praga con lui, che era candidato, da anni lavorava, ha detto, vabbè, Bruppu, io lo so che tu non mi voti, perché voi siete di sinistra, basta che non si candida Lucia, e lui fa, no, che si candida, appena gli ho detto, che mi avevo deciso di candidarmi, la sua prima preoccupazione, fa e mochi nei giudici a Fernando, perché pensava che, perché pensava che, non era proprio, non era proprio nei miei, programmi, però, come sono andati questi anni di amministrazione, insieme alla Giunta Pascano, come consigliera, come consigliera, devo dire la verità, ho sempre avuto rapporti, molto cordiali, e anche di grande stima, perché comunque sono persone, ecco, poi magari uno si può anche sbagliare, poi il tempo di già ti sembravano, però sono persone che, sicuramente persone per bene, ecco, e in politica, non è semplice trovare persone per bene, per bene, anche il sindaco, devo dire la verità, è una persona, nonostante gli scontri, la mia durezza, anche negli interventi, oppure nei vari comunicati, una persona che mi ha sempre dimostrato, comunque, grande educazione, e stima da un punto di vista politico, quindi il problema lì è stata sicuramente l'inespedienza di Mascaro, che si è ritrovato catapultato comunque in una realtà che non è la sua, quindi entrare nel meccanismo, e poi lui praticamente, e anche gli assessori, quasi tutti, diciamo, neofiti, non c'erano, ecco, persone, forse, tranne Zaffina, gli altri erano tutti, diciamo, alla prima esperienza, comunque, ecco, il clima, devo dire la verità, come prima esperienza, devo dire che ci sono stati gli assessori che hanno fatto bene, stanno facendo bene, tipo l'assessore Stella, Sì, l'assessore, ma è una persona per bene, Luleva Lì, la sua professionalità, l'assessore Stella, ma Giorgia Gargano, Giorgia Gargano, la Bambara, sono tutte persone di un certo spessore, ma non voglio dimenticare, Antonello Bevilacqua, Antonello, sono tutte persone che sono di uno spessore, Sì, che vuoi, di gente per bene, poi politicamente, ti ripeto, il problema là è stato proprio lo scollamento con i consigli, perché poi i consiglieri eletti volevano, giustamente rivendicavano un ruolo nella giunta, io mi metto nei panni di chi ha preso 700-800 voti, arriva, si siede, dice, da qual è l'assessorato mio? E quello gli dice, no, per te Miss Italia finisce, tu resti consigliere, consigliere, cioè, a me da, se fossi stata eletta, avessi fatto un percorso, avessi contribuito all'elezione di un amministratore, di un sindaco, devo essere sincera, e fosse venuto Guarasce e dice, no, io metto Giovanni De Grazia al turismo, metto, dico, scusami, ma, perché non io? Perché poi ognuno crede di avere le capacità, no, le competenze, e quindi, lì, tutte queste frizioni, questi conflitti molto accesi, diciamo, avevano un fondamento, una ragione d'essere, perché, arriva poi l'assessore, che magari ha votato pure a sinistra, molto probabilmente, mi metto nei panni di chi, ha portato, ha fatto le liste, ha portato migliaia di voti, poi arriva il cittadino, insomma, arrivo, non io, vabbè, perché, però, arriva Giorgio Agargano, che magari aveva votato Guarascio, per dirti, e si trova assessore, e quindi lì, se non hai, e quindi poi ci mettono i paletti, ma qui ha avuto un'apertura mentale, maschile, perché, insomma, però, io devo dire la verità, Giovanni, io sono sempre stata convinta, prima di fare questa esperienza, dell'importanza delle giunte tecniche, perché ho sempre pensato, che un'aggiunta tecnica, potesse, ecco, garantire maggiore competenza, e anche, quindi, maggiore efficienza, nelle misure adottate, io, con l'esperienza che ho fatto, ti dico, che forse le giunte devono essere politiche, perché, innanzitutto, tu dai la direzione, lì, praticamente, Mascaro, non, è stato un, un miscuglio, di, eh, non c'è stata un'unica strada, hanno dovuto cercare, di far contemperare, l'indirizzo politico era diverso da, 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 l'azione, eh, effettiva, eh, i consiglieri non erano contenti di quello che, di alcune scelte che facevano l'aggiunta, molto spesso, c'erano proprio dei, tra virgolette, dei rancori, legittimi, perché ti ripeto, se io, prima eletta, della lista nuova era, che, credo di avere delle competenze in vari ambiti, non fossi stata, avessi avuto il giusto riconoscimento, che pensavo di meritare, avrei creato dei problemi, sbagliando, però sicuramente non gliel'avrei resta così semplice, perché mi sarei sentita, sminuita, non mi sarei sentita apprezzata, e soprattutto dico, avrei pensato, che non era giusto. Sto sbirciando il telefonino, che abbiamo in diretta, trasseguendo questa trasmissione, Francesco Perendinetti, che è un signore, è un signore, un amico, è sempre, lo invito continuamente, un grande signore, è il presidente del PD, del comitato Lamedino, ed è uno che, la politica, insomma, è interessato. Allora, cosa ne pensi di Francesco Grandinetti? No, ecco, Francesco è una persona, che ci sta seguendo, lui è molto attento, se vuole telefonare, può anche telefonare. Ecco, sicuramente, non rientra, tra quelle persone, che io ho sempre sentito, diciamo, ostili, tra virgolette, nei miei confronti, è una persona, ecco, una delle persone, per bene, che, questa città, di La Mezzia Terme, ha, diciamo, può, di cui può vantarsi, è animato, da, sempre è stato animato, da, ecco, intenzioni, nobili, di, voler migliorare, questa città, di dare il suo contributo, non è mai stato, di quelli, ecco, è un uomo, che riesce a, fare sintesi, a fare squadra, quando gli viene, permesso, e poi, ecco, quello che è, io, il prerequisito, che poi mi allontana, no, un po', io poi alzo il muro, e, gli uomini, io dico che, devono essere persone, per bene, a modo, soprattutto, se si relazionano, con una donna, a me, l'altra volta, ho avuto uno scontro, in consiglio comunale, accesso, perché, ho difeso, la segretaria comunale, che era stata, destinataria, di attacchi, di attacchi, violenti, a mio avviso, a prescindere, dal merito, della questione, da parte, di un consigliere comunale, e io ho detto, che non si dovevano, permettere, di utilizzare, quei toni, nei confronti, di una donna, perché, e mi è stato risposto, da un'altra persona, ci avete voluto, la parità, no, io ho voluto, la parità, però io pretendo, ed esigo, che gli uomini, si relazionino, con le donne, in un modo, che non può essere, lo stesso, con il quale, si relazionano, con un uomo, perché ci sono, dei comportamenti, che devono essere, di galanteria, di, io, io, sarò antica, paradossalmente, sarò pur antica, però, la galanteria, il, la gentilezza, stavo per, con la sicurezza, ma non è l'uomo, che ti apre lo sportello, è il rispetto, ecco, della, della donna, cioè, un uomo, non si può rivolgere a me, con la violenza, con cui, vabbè, la violenza, io ti parlo, violenza verbale, proprio violenza anche, dei, 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 dei modi, del viso, anche, diciamo, ecco, non si può rivolgere a me, con un tono, di, di, tamarro, come si potrebbe rivolgere ad un uomo, la donna, per me, deve, essere messa, per me, su un piedistallo, da un punto di vista, ti ripeto, dell'approccio, anche perché, se sdoganiamo determinati comportamenti, poi, la sticella si abbassa, e noi portiamo ad accettare, anche, atteggiamenti che poi travalicano, quindi, allora, io sono donna, e mi tratti da donna, con i guanti gialli, bianchi, non lo so come devono essere, e mi rispetti, poi, nel merito, entriamo, nelle discussioni, ci ammazziamo, ce lo diciamo, però è un altro discorso, ok, ecco, Francesco, è una persona, per bene, un signore, ma io, io è la seconda volta, che mi intervisto, la prima volta, quando mi intervistai, ero candidata, era candidata, e ci un po' ci scherzavo, no, perché nel senso che, io non ci credevo, pensavo, era l'ultima candidata, dell'ultimo menù, ho detto, chissà che questa cosa ha da dirmi, non aveva da dire niente, invece, poi, ho scoperto, Lucia Cittadino, insomma, per bene, bella donna, moglie di un mio amico, insomma, una persona che stima, a tutta la famiglia, grazie, e ho scoperto, le qualità, che poi effettivamente, aveva l'avvocato, Lucia Cittadino, insomma, poi, è rimasta una, una lunga amicizia, insomma, ci vediamo sempre, nel tuo quartier generale, sul corso, e scherziamo sempre, però sempre con massimo rispetto, è certo, ci mancherebbe, fatto sta che, l'altro oggi, ci siamo visti in penetta, sì, e ho rimproverato il tuo marito, sì, che dice, stai attento, che io faccio la guardia del corpo, e io gli ho detto, guarda che la guardia del corpo, deve stare avanti, non dietro, verissimo, verissimo, perché poi sono anche una sportiva, sì, noi sportivi ci vediamo, è certo, è certo, noi frequentiamo la penetta, è certo, io sono un amante, non lo diciamo, se no vengono tutti a mare la penetta, lo so, ma noi non diciamo gli orari, io cambio sempre gli orari, per evitare gli ammiratori, gli ammiratori, non scherziamo, allora Lugia, praticamente, ma tu ti sentiresti di essere candidata, non del centro-sinistro, del centro-destra? Una candidata del centro-destra? Sì, ti sentiresti. Allora guarda, tu rifiuteresti un'offerta? Guarda, me l'hanno fatta, ti dico la verità, mi stanno, diciamo, corteggiando, corteggiando nel senso, anche in maniera, e poi è sempre l'usinghiero, no? Essere, diciamo, tra virgolette, inseguita, tra virgolette, o comunque è una forma di apprezzamento, c'è una persona molto importante, anche più di un partito, centro, centro-destra, una persona mi ha detto, io devo fare di tutto per candidarti, per farti candidare con me. Perché lui do un marito, tutti i amici di centro-destra, sì sì, ma lui è fino a quando, la pecore nera, se è un po' tu, no, lui è sempre stato di centro-destra, diciamo, sì, sì, come orientamento, in questo senso, politicamente parlando, no, vabbè, ma io figlia di un comunista, spiegatato, non potevo, come si vive a casa, tra un marito di centro-destra, e una moglie di centro-destra? no, ma mio marito, diciamo, dalla, la politica non la ama, perché lui, diciamo, è deluso un po' da tante cose, ecco, e di quelli, un po', come tanta gente, che, diciamo, ecco, è delusa, e pensa, che poi alla fine, siano sempre gli stessi, a muovere un po', le pedine, e che quindi si possa incidere poco, e niente, quindi, però, poi, apprezza molto, vede la mia passione autentica, no, e quindi, poi, ovviamente, mi sostiene, lui è, diciamo, ha idee più liberali, è più di centro-destra, però, non avendo una connotazione, radicata, alla fine, non gli è costato molto, lui poi, come tanti, è più per le persone, non, i figli sono con il papà, o con la mamma? Allora, loro sono sempre, papà, 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 in generale, però, poi, mi sostengono, mi supportano, sono, ecco, io quello che dico, credo di essere un buon esempio per loro, ma non in generale, come, però, ecco, quello che io voglio trasmettere loro, col mio esempio, è di, eh, non siamo nati per essere delle comparse in questa vita, Giovanni, noi siamo nati per lasciare un segno. io lo so cosa mi dico la tua onestà intellettuale e onestà di donna. Sì, ma io dico quello che penso. che dici quello che pensi, senza perdere sulla regola. Sì, eh, e ti dirò, per uno che è scontento, e anche le due sorelle sono, sì, ma io per uno che è scontento, io, poi, non lo dico per, ma, mi fermano le persone, brava, vai avanti, eh, siamo con te, ecco, perché, a me non interessa esserci a tutti i costi. Io ho tanti interessi. Ai l'intellettuale cosa dici? Chi? Ai l'intellettuale cosa dici? Ma, non è che, sinceramente, non è che il giorno ho il pensiero loro, poi magari, ecco, vedo certi atteggiamenti, ci rimango, ma nemmeno ci chiare, invidia, l'invidia è quel cos'è. No, non credo. Siamo una donna borghese, siamo una donna che sta bene, no, c'è una bella famiglia, immediata no, nel senso che, no. Chissà quanto donna potrebbe essere come te, chissà una donna, no, no, questo non, io invece vedo molta, ecco, percepisco tanto, come dire, affetto, e vedo che arriva la mia autenticità, e la mia voglia di fare, diciamo, ecco, di ribellarmi anche a determinate logiche, a non avere paura anche di rimanere isolata, a dire quello che penso, perché se io, in generale, nella vita, è quello che io dico alle mie figlie, che mi sento di dire, io mi considero una privilegiata, ma non in termini economici, perché sicuramente, avendo avuto anche una famiglia, che mi ha dato gli strumenti, perché altrimenti non sarei arrivata, magari all'università, non è ovvio, no, è tutto nascere nella culla, anche giusta, Giovanni, perché quando io vedo, sti ragazzi che accoltellano, per una cuffietta, tutti, contro sti ragazzi, devi morire, devi marcire in carcere, io dico, ma se io fossi nata in quel contesto, in contesti di povertà, le radici che si contano, eh sì, in contesti, ce l'hanno con i Rom, ma se sti poveri Rom, io fossi nata nell'accampamento Rom, secondo te, io ero così, io ero come tanti Rom, che non avevano studiato, che non, eh no, la gente se lo scorda, e questo è quello che noi dobbiamo fare, noi dobbiamo, io mi sento in colpa a certe volte, no, quando vedo persone che sono segnate, la cui vita è segnata, eh, dalla, eh, dalla mancanza di opportunità, e io che giro, magari vai nei negozi, e vedi la commessa che, capisci che viene pagata, sfruttata, sfruttata, e poi vedi delle, ragazze, ehm, sveglie, intelligenti, capaci, intraprendenti, no, in generale, che magari fanno lavori umili, e dici, no, io volevo studiare, però non potevo, magari non hanno incontrato nemmeno persone che gli hanno fatto credere che potevano farla, perché nella vita è anche, gli incontri, no, ti cambiano, il percorso, magari qualcuno che ti diceva, tu ce la puoi fare, chi l'ha detto che tu non ce la puoi fare, provaci, e quindi ti ripeto, io provo a trasmettere e a mettere in atto un po' queste mie idee e a incoraggiare chi magari non ha i mezzi, chi non ha fiducia in se stesso, perché devi, la fiducia, l'autostima è tutto nella vita. E cos'è l'amicizia per te? Ah, io ho tante amiche che mi vogliono bene, l'amicizia è tutto, l'amicizia è, sono le risate, le amicizie sono l'affetto e la presenza nei momenti di difficoltà e sapere di avere qualcuno che ti ascolta, perché non sempre, la fortuna di avere qualcuno che ti ascolta, ti capisce, ti, ecco, manca l'ascolto, ormai non riusciamo, non è semplice trovare qualcuno che si mette, che ascolta, ti consiglia, tu, che vuole essere ascoltata, che l'amicizia per me è una parte dopo la famiglia, viene, è tutto. Un giorno le tue figlie ti dicessero, mamma, voglio fare politica, tu cosa stai a rispondere? Ah, ma io a mia figlia, per esempio, Lorenza la Grande, che ora è a Milano, studia lì, le ho detto, io lo dico sempre, che la politica è occuparsi delle cose nostre, della scuola, del lavoro, della sanità, e infatti a lei, lei è stata eletta rappresentante di istituto, lei mi faceva, mamma, ma no, ma io, chi mi vota? Tu, bisogna partecipare, poi vieni eletta, bene, ma, cioè, non bisogna essere spettatori. Tu non ti arrendi facilmente. No, io non mi arrendo, poi mi stufo però, capita che... Ah, le depone le anni. No, che se mi stufo, non è che le depongo, se mi secco, non mi arrendo, ma è una scelta di intelligenza anche quella. Con tuo marito, le anni le depone? Io passo per la dura della famiglia, ma in realtà... Lui è il duro. No, 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 c'è una perfetta sintonia. No, no, tutti quanti quando lo vedono, fanno, ma come sono porti, madonna, certo abitare con lei. No, 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 perché posso sembrare molto aggressiva, no, no, ma invece sono molto accudente. Sei molto sogevole. No, ma sono molto anche accudente, ho sempre avuto, ma di carattere. C'è questo sorriso che ti brilla nella tua famiglia? No, ma... Si sorride sempre a casa? Eh, per fortuna sì. abbiamo la condilla, per fortuna, ecco, finora abbiamo sempre sorriso. E un po' di sorriso di queste, nel pittino lo potresti portare, nel centrosinistro. Eh, sono tutti grigi, no? Si, sono grigi, no? E' questo che ti voglio dire. Scherzo! Che poi si offende. No, no, tu scherzo. Poi si fanno la tinta. Poi si fanno la... Vedi che sei tu che... Scherzo! Ma mi pigliano troppo seriamente. No, ogni volta che ti faccio l'intervista, beccano la frase che ti... Eh, vedi, ha detto che si può grigi. No, 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 ma ci vuole leggerezza, uno parla, fa, ma non è che il giorno pensa a loro, o loro pensano a me, ci mancherebbe. Uno fa, cerca di partecipare al dibattito, perché... No, no, noi parliamo sempre politicamente. Ma sì, Non di persone per bene, insomma. Ma ci se ne... Ma, cioè, tutti quanti, tutte persone per bene, e poi, ecco, magari non c'è un cortocircuito comunicativo... No, quello che mi fa meravigliare, noi siamo una città... Ma dura una mezz'ora, ci sta più niente gusto? No, sì, noi ci andiamo. E, ultima domanda, è una città... Sì, mi stare qua ora. È una città di persone per bene, poi, tutte persone... Eppure è una città che lo riesce a avere gli politici che contano veramente. Togliendo qualcuno che si trova già... Guarda, allora, una cosa è vera, che vado contro me stessa, che sono una politica attiva. C'è talmente tanta, diciamo, sfiducia nella politica, nelle istituzioni, che le persone valide, che non si avvicinano, dice, io il mio tempo lo dedico a cose che mi tornano utili, a livello anche economico. Io, che non ho un posto pubblico, io tolgo tempo ai miei... alla mia attività, perché, se io sono all'iniziativa, alla... Poi pensano che i consiglieri comunali guadagnino duemila euro al mese. Sfatiamo questa cosa, perché i consiglieri comunali, chi riesce a fare tutte le commissioni, quando ci sono... Forse è la prossima legislatura, cosa in più c'è? No, 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 già il massimo adesso si è raggiunto, perché è stato livellato la numerosità delle commissioni al compenso del sindaco, insomma. Ma, noi che prendiamo il gettone di presenza, ti dico che nella migliore delle ipotesi, chi è monogruppo, e quindi partecipa a tutte le commissioni, può, facendo un'analisi statistica della numerosità delle commissioni, arrivi a 400 euro, una media, una media, ma se poi consigli che a luglio non si fanno, spesso, agosto non si fanno, settembre non ne abbiamo fatte, Natale non ne abbiamo fatte, no, calcola chi è monogruppo, monogruppo, perché poi gli altri devono dividere le sette commissioni, se sono in tre, ognuno e quindi guadagnano 120 euro, 150, io che comunque presiedo la quasi totalità delle commissioni, posso arrivare a 400 euro, una media di 400 euro massimo. Anche se la politica non dovrebbe essere un conteggio di soldi. No, 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 per rispondere ai cittadini che dicono siete là a fare soldi, vuol dire, cioè, chi fa politica, che chi come me, soprattutto, non ha il posto, perché chi è il posto fisso, si piglia il permesso e non va al lavoro. Quindi, invece di andare a lavorare, giustamente, la legge lo consente, va al comune e fa le commissioni. Ok, ma chi liberi professionisti, liberi professionisti, io tolgo tempo al mio lavoro, perché più lavoro e più guadagno. Quindi, e come me, ce ne sono tanti. È proprio una passione che ti anima e ti guida. Poi, fin tanto che vedi, se vedi di poter dare un contributo, bene, nel momento in cui ti rendi conto che questo contributo non lo puoi dare, non sei in grado di incanalarlo, per fortuna. Abbiamo finito, abbiamo fatto una bella chiacchierata con Lucia Gittadino, consigliere Nuova Era, ci auguriamo che ti ripresenti, vediamo il nome che esce, cosa succederà. Mi auguro di averti qua negli studi, di fare queste belle chiacchierate con te perché sono piacevole e piacciono alla gente. Questo incontro è stato anche per infescare un po' le menti delle persone, ricordare che i nostri consiglieri ci sono, stanno lavorando e poi ci dicono da loro come sono stati i quattro anni, come l'hai raccontato tu, hai parlato di Mascale, hai parlato del PD. Insomma, per conoscere più Lucia Gittadino dobbiamo dire che Lucia Gittadino è una brava libera professionista avvocato, una mamma di famiglia, il marito grande amico del sottoscritto, le figlie stanno facendo lo strato, insomma, una bella famiglia e quelli che ci dovrebbero rappresentare per il futuro della nostra città. Io ti ringrazio Lucia, e grazie a te per avermi voluto. E quando ti chiamano tuo marito da Praga di guardare tutti i monumenti che mi hai elencato. Dice che mi manda solo foto di monumenti. Solo monumenti. 14 g uomini a Praga. Dice che donne non ce ne sono. Sì. Sono tutte a casa con girare. Tu ci sei stata a Praga. Sì. È impossibile. Non lo so. Vabbè, vabbè, ciao Lucia, in bocca al globo. Ciao, grazie Giovanni. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao,